Buongiorno e ben ritrovati qui a Teleragione, oggi in una versione desueta, è una puntata registrata, non in diretta, perché sono in partenza per Piacenza e quindi purtroppo non ho avuto modo di coordinarmi con la regia, quindi oggi non ci saranno le slide, parlerò come faccio nelle conferenze Abbraccio e vorrei fare un attimo un po' il punto della situazione, delle tante cose che sono successe in questi giorni sulle quali si possono tracciare delle linee guida Il vertice di Kazan, che molti ritengono essere stato deludente, secondo me in realtà è stato un successo è stata una grande prova di forza della federazione russa Due anni fa sarebbe stato impensabile poter radunare tutti questi capi di Stato attorno alla figura di Vladimir Putin Oggi è stato possibile, era presente anche Antonio Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite Presenza che ha scatenato le ire di Zelensky Quindi voglio dire, grande successo, grandi risultati, grande partecipazione Quello che sta emergendo è che la Russia è tutt'altro che isolato Anzi è proprio in testa a una sorta di movimento di emancipazione del sud globale dall'Occidente allargato, un po' come in passato lo è stato l'Unione Sovietica Quindi sotto certi punti di vista Putin sta progressivamente restituendo alla Russia quel ruolo che le era stato sottratto a seguito della sconfitta durante la Guerra Fredda La Guerra Fredda in realtà non è mai finita La Russia sotto la guida di Putin si è ripresa Viene definito un dittatore, un autocrate Ma ovviamente chi vive in Russia non può che baciare per terra dietro ogni passo che fa Putin perché ha preso in mano un paese distrutto in bancarotta che veniva spolpato dalle multinazionali occidentali in preda agli oligarchi e l'ha rimesso esattamente lì dove doveva essere creando grandi opportunità per tutti gli altri paesi del mondo Quell'unipolarismo, quell'arroganza statunitense, anglosassone e più in generale ne esce molto ridimensionata È uscita recentemente la notizia, se non ricordo male l'ha detto proprio il presidente Georgiano che in passato la Georgia avrebbe dovuto impegnare la Russia in un conflitto quindi creare una provocazione per innescare una reazione della Federazione Russa poi resistere due o tre giorni poi ritirarsi nei boschi perché poi ci sarebbe stato l'intervento della Nato ne parlavamo proprio ieri sera al talk di Visione TV vi consiglierei di vederlo perché secondo me in quella puntata ci sono molti molti spunti interessanti c'era ospite Mark Bernardini, c'era ospite Francesco Dallaio abbiamo un po' esulato siamo andati un po' al di là del tema che ci eravamo preposti all'inizio ma secondo me sono usciti degli elementi molto molto interessanti quindi diciamo la Georgia doveva provocare la Russia la Russia ha denunciato prima dell'inizio dell'operazione speciale che l'Ucraina era pronta ad invadere le regioni del Donbass tant'è che vi fu all'epoca, non so se ricordate, una sorta di evacuazione forzata dei civili da quelle zone teoricamente l'Ucraina era nella legittimità di fare questo perché secondo il diritto internazionale quello è il suo territorio quindi avrebbe potuto invadere quei territori la Russia avrebbe dovuto necessariamente intervenire per difenderla e comunque questo avrebbe innescato le sanzioni dell'Occidente quindi l'ipotesi è che l'Occidente avesse deciso comunque di innescare di mettere sul campo un regime sanzionatorio pesante la Russia sono vent'anni che è sotto sanzioni quindi più pesante, molto più pesante adesso siamo al quattordicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della federazione russa ma soprattutto nei confronti dell'Europa occidentale per ridimensionare ulteriormente abbattere ulteriormente le economie dell'Europa occidentale e far sanguinare la Russia la Russia probabilmente sapeva in anticipo quello che sarebbe successo ha lavorato sotto traccia in questi anni per crearsi le condizioni per far fronte a questo regime sanzionatorio anzi per utilizzarlo a suo vantaggio per innescare il Tana Libera Tutti perché è chiaro che se il mondo che stava alla finestra avesse visto che la Russia era in grado di sopportare l'urto di queste sanzioni che le sanzioni erano un'arma spuntata che era un'arma che oramai facci lecca che era stata superata da piattaforme alternative da alleanze alternative dal fatto che esistevano tanti paesi che non ne possono più da tempo di essere sotto il tacco dell'Occidente cioè una volta dimostrato tutte queste cose diventa veramente difficile per l'Occidente negli Stati Uniti e l'Inghilterra in testa continuare a tenere in mano lo scettro del comando perché più che l'arma militare che ha sempre funzionato sì ma contro i paesi straccioni più che diciamo le rivoluzioni colorate che hanno funzionato fino a un certo periodo ma oggi non funzionano più perché tutti hanno capito quello che succede tutti i governi hanno cominciato a prendere precauzioni l'ultima rivoluzione colorata che aveva quasi funzionato era quella in Siria ma anche lì l'intervento della Russia ha stoppato il processo di regime change e da quel momento in poi non è stato più possibile poi ci hanno riprovato con la Bielorussia e gli è andata male pensano di fare qualcosa del genere con il Libano e con l'Iran ma gli andrà male pensano di fare qualcosa con la Georgia ma gli andrà male quindi anche questa è un'arma spuntata l'arma che ritenevano definitiva era quella delle sanzioni del fare fuori un paese dal consesso internazionale impedirgli di esprimere la propria economia e questo è un po' quello che faceva paura a tutti e per questo motivo tutti sottostavano al gioco e ai diktat dell'Occidente la Russia ha dimostrato che quest'arma non funziona ha predisposto stanno predisponendo un sistema alternativo per aggirare le sanzioni già oggi sono in essere tante triangolazioni la Turchia è il paese che più ha beneficiato insomma di questo regime sanzionatorio ma anche gli Emirati Arabi Uniti anche il Qatar anche l'Arabia Saudita il Kazakhstan insomma tanti paesi hanno tratto benefici ma soprattutto è chiaro a tutti che oramai le sanzioni non fanno più paura a nessuno anzi è un qualcosa che danneggia più il sanzionatore che è sanzionato che danneggia più l'Europa che i paesi il bersaglio quindi quello che sta succedendo appunto è che si è innescato oramai un processo cioè oramai c'è la certezza c'è la certezza che esiste un mondo alternativo a quello unipolare governato dagli anglosassoni e quindi quello che sta nascendo è appunto un mondo multipolare in cui quello che contano sono le relazioni bilaterali fatte nel reciproco interesse l'altro giorno reggevo la critica del Corriere della Sera quella critica biliosa che ci sono delle divisioni che i BRICS sarebbero frammentati ma è proprio il loro status il loro statuto insomma è proprio nella loro filosofia quello del non dico del contrasto ma della dialettica fra interessi diversi che devono trovare dei punti di convergenza quindi è chiaro che la Cina con l'India sono dei competitor ma possono trovare punti di contatto e questo vale per tantissimi altri paesi noi siamo abituati alla caserma noi siamo abituati a sbattere i tacchi noi siamo abituati a governi fantoccio in mano a sgherri in mano a vicere in mano a ventrilo qui no pensiamo a Monti pensiamo a Draghi pensiamo oggi a Lameloni insomma questa è gente che secondo me andrebbe processata per alto tradimento insomma anche il presidente della Repubblica è un soggetto che non fa l'interesse nazionale così come non l'ha fatto il suo predecessore anzi sono dei garanti dello status quo e dell'atlantismo cioè noi siamo profondamente infiltrati e noi dobbiamo cominciare a entrare nell'ottica di fare una guerra di liberazione perché nessuno ci libererà non ci libererà Trump non ci libererà Putin non ci libererà Xi Jinping nessuno di questi verrà a liberarci cioè se non siamo noi stessi a creare le condizioni perché l'impero debba combattere sul fronte esterno contro i paesi che si stanno disallineando ma anche sul fronte interno a un certo punto gli eretici sono un problema quando sono uno due quando diventano troppi non ti basta la legna per bruciarli tutti quindi è chiaro che un paese non allineato lo schiacci ma quando i paesi non allineati cominciano a spuntare tutti come i funghi quando all'interno dei paesi si cominciano a creare delle resistenze strutturate una coscienza del fatto che tu sei sotto occupazione che tu sei una colonia che i militari che stanno nel tuo paese sono militari occupanti che le tue istituzioni sono come il governo di Vichy in Francia durante il nazismo cioè gente che collabora con il nemico quando ti rendi conto che la stampa è lì per aprirti la bocca e ficcarti dentro questa medicina tutti i giorni della propaganda e della manipolazione quando cominci a capire tutto questo devi cominciare a capire che te ne devi scrollare te la devi levare di dosso e lo devi fare pensando che il nemico del tuo nemico è tuo amico quindi nessuno deve sposarsi i russi nessuno deve sposarsi i cinesi gli indiani i turchi o chi che sia ci sta un'opportunità un'opportunità favorevole per scrollarsi di dosso questo gioco questa cappa che ci sta distruggendo e disintegrando è arrivato il momento di farlo e come farlo? cominciando a disobbedire su tutto cominciando proprio a pensare alla resistenza una resistenza non violenta una resistenza passiva ma costante e soprattutto cominciando a recuperare anche la sobrietà la dignità cominciando a pensare che siamo in guerra e che quindi dobbiamo assumere degli atteggiamenti rigorosi anche noi rispetto alla nostra famiglia rispetto alle nostre relazioni cominciare ad avere un'etica cioè cominciare a immaginare un mondo diverso perché questo mondo è un mondo depravato un mondo degenerato un mondo che sta morendo e noi dobbiamo cominciare a pensare a un mondo che rinasce dobbiamo ricominciare a pensare al futuro cioè l'altro giorno citavo i dati della denatalità ogni volta che lo faccio c'è una caduta netta delle persone iscritte al mio canale ogni volta che parlo ricevo critiche su questo questo è un tema fondamentale il tema della denatalità è un tema fondamentale cioè un paese che non fa più figli è un paese morto ed è morto perché ci hanno colonizzato psicologicamente perché hanno castrato la mia generazione e quelle che sono venuto dopo cioè non dandogli l'idea del futuro non riuscendo neanche a concepire un futuro cioè negli ultimi anni 500.000 giovani italiani sono andati all'estero cioè sono scappati via dall'Italia dal paese più bello del mondo c'è gente che scappa via dal sud Italia cioè il posto più bello dove vivere in tutta Europa cioè io non riesco a pensare a un posto più bello dell'Italia non riesco a pensare a un posto più bello del sud Italia dove vivere e noi abbiamo la gente che scappa via dal posto più bello dove c'è il clima migliore dove ci sono le città più belle per andare a vivere in decessi di città per andare a vivere in 50 dentro un appartamento a Milano o in uno scantinato a fare un lavoro di merda andare via dal mare dal sole dal cibo buono ma perché non pensare di ricostruire quei luoghi cominciare di nuovo ad avere una visione del futuro cominciare a immaginarsi diversamente io faccio sempre l'esempio di Snowpiercer il film che ci sta guardatelo recuperatelo parla di questo treno che gira all'infinito in questo mondo post apocalittico questo treno che gira 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 perché hanno spiegato alle persone che è il treno che non è più possibile vivere fuori da quel treno quindi queste persone si pensano solo all'interno del treno e questo treno è diviso ovviamente in classi a un certo punto quelli dell'ultima classe decidono di combattere per arrivare alla testa del treno arrivano alla testa del treno trovano Ed Harris il quale che è al capotreno gli dice benissimo adesso guidatelo voi questo treno e chiaramente guidare quel treno vuol dire replicare nuovamente quel sistema il film ti spiega che la soluzione è scendere dal treno che quello che ti hanno detto era falso che non è vero che la vita fuori dal treno non era possibile la vita fuori dal treno è possibile è possibile riportare in piedi l'artigianato riportare in piedi la qualità italiana riportare in piedi un certo stile di vita è possibile ricominciare a fare figli è possibile avere delle famiglie senza essere degli sfigati senza dover rinunciare anche al divertimento è possibile farlo solo che ci hanno convinto che non lo possiamo neanche concepire e ci stanno portando al deperimento alla decrescita mascherata da rivoluzione green e molto infelice perché la decrescita sarà molto infelice stanno promuovendo il degrado nelle nostre periferie nei nostri costumi cioè noi oramai siamo assuefatti al degrado all'assenza di qualità siamo completamente disabituati al bello viviamo in luoghi orrendi e siamo nel posto più bello del mondo l'Italia è indubbiamente se non il posto più bello del mondo uno dei posti più belli del mondo più ricco di storia di cultura di patrimoni naturalistici culturali ma stiamo scherzando noi stiamo buttando via tutto questo perché l'abbiamo dato sempre per scontato noi avevamo rapporti storici con la palestina col medio oriente stiamo lasciando morire un popolo intero senza fare nulla senza fare nulla io lo raccontavo ieri sera in trasmissione dietro del sipario l'altro giorno ero in ambasciata alla residenza dell'ambasciatore russo per un evento proprio di visione tv la presentazione del libro di Vladimir Putin tradotto tra l'altro da Mark Bernardini e praticamente ho incontrato una persona che spero di intervistare a breve ci siamo parlati lui era d'accordo con il quale un rapporto molto molto cordiale una grande persona un grande italiano che ha lavorato ha avuto un ruolo molto importante nelle Nazioni Unite e ha detto Israele andrebbe cacciata dalle Nazioni Unite andrebbe espulsa dalle Nazioni Unite cioè un paese che oramai ha scelto di essere al di fuori del mondo civile perché quello che sta compiendo è qualcosa di atroce e disumano e si fa finta di nulla qualcosa che rischia di distruggere la stessa Israele cioè adesso l'altra volta vi avevo parlato di questa fuga di notizie dagli Stati Uniti ora sembra che a causa di questa fuga di notizie sulla rappresaglia israeliana nei confronti dell'Iran questo attacco sia saltato e sia stato semplicemente rinviato io in realtà penso che anche le mosse della Russia nei confronti dell'Iran anche gli esiti del vertice di Kazan anche il contesto che si sta formando nel mondo forse stia facendo capire a una parte degli Stati Uniti e forse anche a una parte della leadership israeliana ancora sana di mente che forse ci si è spinti troppo oltre che forse quella sensazione di potenza era forse ampiamente sovrastimata perché io penso che loro anche durante la pandemia il grande successo che hanno avuto con la pandemia perché la pandemia è parte di tutto questo processo quindi l'aver sottomesso intere popolazioni aver costretto miliardi di persone a fare una cosa completamente fuori di testa aver chiuso dentro casa miliardi di persone averle umiliate con quegli stracci in faccia aver insultato la distenza gli abbia dato forse un senso di onnipotenza e che abbiano vissuto un periodo di delirio di onnipotenza e pensavano che se avevano avuto successo in quello avrebbero potuto avere successo in ogni altra cosa ebbene io penso che questo qui li abbia portato un po' a sovrastimare le loro capacità sia nei confronti della Russia sia nei confronti dell'Iran della Cina ma anche nei nostri confronti nei confronti della dissidenza interna e la dissidenza interna è forte cioè quello che noi facciamo qui sul web è un lavoro che poi trova riscontro nella realtà cioè io giro frequento anche ambienti alti ambienti bassi tra virgolette ovviamente e mi rendo conto che i nostri concetti arrivano che facciamo opinione che apriamo dibattiti che i toni pacati l'essere sempre aderenti ai fatti fare delle analisi diciamo che poi trovano un riscontro nel futuro ci sta portando ad assumere ad avere una credibilità che in questo momento ancora non è testimoniata dai numeri anche perché poi ai fini i numeri rigestiscono loro ma poi tutti questi concetti tutte queste idee camminano con le loro gambe quindi noi dobbiamo avere anche fiducia che si sta facendo strada a un movimento di pensiero alternativo e che poi quella maggioranza silenziosa schiantata dalla vita quotidiana poi alla fine qualcosa gli arriva e quando cominciano ad arrivare queste cose cominciano a montare cominciano a diffondersi insomma quindi in realtà io non penso che la situazione sia catastrofica però tutto questo chiaramente va organizzato ma soprattutto secondo me dobbiamo cominciare proprio a pensarci diversi dobbiamo cominciare a immaginare anche delle generazioni future diverse non lasciate in balia degli influencer dei cellulari delle serie tv cioè bisogna avere cura dei ragazzi perché sono loro e il nostro futuro perché non vuol dire indottrinarli però fargli capire quali sono gli strumenti che utilizza il potere per annichilirli per deprimerli per castrarli per dargli questa sensazione di impotenza a intontirli con questo torpore con queste con le droghe dei social dei soldi facili o comunque del benessere scontato cioè tutto quello che noi viviamo non è scontato signori miei io sono stato in dei paesi dove si viveva bene cioè lui in Ucraina si viveva bene in Siria si viveva benissimo prima della guerra insomma sono paesi che sono precipitati nel caos dall'oggi al domani cioè qui basta niente cioè basta che il tenore di vita si abbassi ulteriormente basta uno shock petrolifero dovuto a un calcolo sbagliato in Medio Oriente per far sì che il benessere che noi oggi abbiamo sparisca e ma chi ce lo ridà dopo cioè questo è frutto di lotte di decenni cioè noi stiamo buttando via lotte fatte nei decenni e oggi c'è una possibilità c'è un mondo che si sta riorganizzando e noi dobbiamo far parte di tutto questo noi dobbiamo lottare e batterci per un'Europa che sia soprattutto un'Europa mediterranea un'area diciamo un'area che sia alternativa agli anglosassoni che sia alternativa anche al mondo cinese ma che guardi alla nostra cultura alle nostre tradizioni alle nostre proiezioni naturali quindi io continuo a pensare rapporti tra l'Italia la Grecia la Spagna l'Egitto i paesi del Medio Oriente che si affacciano sul Mediterraneo che poi sono paesi con i quali abbiamo avuto relazioni storiche e poi sicuramente la federazione russa perché la federazione russa c'è un cordone umbilicale c'è un rapporto storico abbiamo condiviso molto molto negli anni e soprattutto c'è un un amore soprattutto incondizionato da parte dei russi nei confronti del nostro paese il che non vuol dire sposarli il che non vuol dire assolutamente appiattirsi vuol dire semplicemente abbiamo degli interessi in comune dobbiamo creare un polo alternativo a questi poli che si sono creati e dobbiamo dialogare alla pari cioè è finita l'epoca delle colonie è finita ogni paese ha i suoi interessi ogni paese ha il suo carattere nazionale la sua cultura la sua identità e deve ha il dovere di salvaguardarli ad ogni costo perché ogni volta che tu perdi questo aggancio con il passato è più facile sostituire nella terza delle persone riprogrammare le persone e infilarci dentro concetti che non hanno nulla a che vedere con il loro retroterra ed è quello che sta succedendo a noi e tutto questo poi provoca necessariamente straniamento smarrimento e poi c'è l'atomizzazione della società gli individui che sono sempre più soli le famiglie che non esistono più io penso alla mia generazione di cinquantenni quando cominceranno a morire le famiglie quando cominceranno a morire gli amici noi avremo sessantenni e settantenni completamente da soli senza figli senza nipoti senza reti è un po' quello che succede già nei paesi nordici dove capitano che muoiono delle persone e ci se ne accorge dopo settimane dalla puzza perché essendo persone che non hanno più relazioni essendo completamente sradicate muoiono in solitudine noi ci stiamo consegnando a questo futuro atroce dal mio punto di vista poi sarà un discorso reazionario conservatore fate quello che vi vale però secondo me bisogna bisogna rifletterci su queste cose e niente io penso di essere di avere un po' divagato del tema però penso che ci siano dei buoni segnali penso che la guerra in Ucraina potrebbe a breve abbassarsi di intensità sono convinto che i russi andranno avanti fin quando non si collegheranno con la transnistria questo l'ho detto fin dall'inizio e sono convinto che questo sarà è un buon segno che Israele stia tardando nella sua rappresaglia nei confronti dell'Iran perché devono fare i calcoli fatti bene perché la Russia ha fatto capire chiaramente che non starà lì a guardare l'Iran non è un paese di poco conto ne parlavamo sempre ieri con Francesco Dallaio che è un esperto anche di dottrina nucleare l'unica ipotesi per Israele per spuntarla nei confronti dell'Iran è l'utilizzo dell'atomica ma questo comporterebbe forse dei rischi giganteschi di immagine di rapporto con gli altri paesi quindi c'è anche la possibilità che Israele si sia cacciato come il resto dell'Occidente non siamo Israele parte dell'Occidente allargato in un vicolo cieco con le sue stesse mani io sinceramente lo spero io spero che lo Stato di Israele così come è concepito cessi di esistere e sorga dalle sue ceneri uno Stato in cui non etnico uno Stato non fanatico uno Stato in cui tutti abbiano diritti di cittadinanza che tutti abbiano le stesse possibilità e non esiste oggi la possibilità di due popoli due Stati non esiste chiunque sostenga un'ipotesi di questo tipo è una persona che non ha la minima contezza dei fatti che non ha la minima attinenza con la realtà lì l'unica possibilità è che ci sia uno Stato per tutti per tutti come è sempre stato quella è una provincia dell'impero ottomano dove hanno convissuto popoli di diverse confessioni di diverse religioni di diverse etnie e quello deve tornare ad essere non c'è altra alternativa i fanatici vanno messi all'angolo vanno messi in condizioni di non nuocere perché perché non sono diversi dai nazisti del secolo scorso e oggi le vittime si sono trasformate in carnefici e noi abbiamo capito che i fantasmi del passato non sono svaniti cioè noi abbiamo ancora dentro quel demone che ha scatenato gli orrori del secolo scorso e quel demone può essere riacceso con la propaganda appunto con l'esaltazione esattamente come è avvenuto con il nazismo cioè la propaganda fa questo i centri di potere fanno questo il nazionalismo ucraino il nazionalismo israeliano sono figli della stessa matrice che è la matrice anglosassone loro li creano così questi stati a loro fanno comodo così li vogliono così vogliono stati fanatici stati vogliono dividere il mondo su base etnico regionale e mettere al potere soggetti fanatici ricoprirli d'oro e fare in modo che tengano sotto controllo tutto il resto nessuno deve crescere oltre un certo limite perché più sei piccolo più sei dominabile più sei controllabile e questo è quello che stanno facendo e che fanno divide e ti impera divide e ti impera è sempre stato così quindi io veramente sinceramente io mi auguro che che si stiano traendo delle importanti lezioni da quello che è successo e da quello che sta succedendo cioè noi abbiamo davanti agli occhi un laboratorio a cielo aperto oramai il velo di maglia è caduto è tutto perfettamente evidente è evidente chi sta con chi sono evidenti coloro che fanno propaganda è evidente come viene fatta la propaganda è evidente a che cosa serva il sistema finanziario è interconnettere tutti i paesi tra di loro è evidente a cosa serva la digitalizzazione è tutto evidente è evidente a cosa sia servita la pandemia è tutto evidente è tutto chiaro è evidente a cosa servano le politiche green guardate i disastri ambientali che stanno facendo in Ucraina e in Medio Oriente non frega un cazzo a nessuno e poi ti vengono a rompere i coglioni con le emissioni di carbonio è folle questi parlo di sganciare bombe atomiche sganciano bombe da duemila libre e poi ti vengono a rompere i coglioni per la caldaia ma siamo impazziti quindi l'ambiente non frega niente a nessuno quelli sono territori che resteranno inquinati per secoli ci sarà gente che continuerà a morire per secoli per decenni per le polveri per quello che si è depositato nel sottosuolo per il cibo contaminato per l'acqua contaminata non frega niente a nessuno è ipocrisia è propaganda è marketing e noi ci dobbiamo difendere da tutto questo con la logica con la razionalità dobbiamo riportare la logica nel dibattito pubblico ed è quello che modestamente appunto cerchiamo di fare qui a Teleragione io vi saluto vi auguro un buon fine settimana chi vorrà questa sera siamo a Fiorenzuola d'Arda lì in provincia di Piacenza per una conferenza alle 20 e 30 e altrimenti ci vedremo settimana prossima lunedì Teleragione ritornerà al solito orario dalle 8 e mezzo alle 9 e mezzo circa è sempre in diretta e come sempre io vi invito a sostenerci invito io sono convinto che prima o poi qualche imprenditore capirà l'importanza di questo lavoro e capirà cosa vuol dire investire su di noi investire su di noi sul nostro lavoro vuol dire investire anche nella difesa delle loro attività delle loro famiglie e del loro futuro ognuno deve fare il proprio lavoro gli imprenditori sanno fare gli imprenditori sono la spina dorsale del paese e io li ringrazio però devono capire che parte dei loro investimenti devono essere destinati alla resistenza e per ora la resistenza parte dalla comunicazione chi intanto ci tiene a galla fa un lavoro incomiabile fa veramente tantissimo però serve un salto di qualità serve un salto di qualità nelle apparecchiature nelle redazioni cioè noi dobbiamo fare un lavoro ancora più efficace ancora più capillare ancora più pervasivo e combattiamo contro la serie A insomma contro squadre da Champions League e noi ancora siamo dei dilettanti nel senso abbiamo talento abbiamo capacità ma non abbiamo strutture da dilettanti e dobbiamo crescere e questo si può fare solo con gli investimenti perché non vuol dire mettersi i soldi in tasca per farsi il macchinone vuol dire spendere i soldi per assumere persone assumere collaboratori non basarsi sul volontariato e una volta che sei circondato di collaboratori una volta che hai redazioni il capitale umano cosiddetto è quello che fa la differenza io su questo sono fermamente convinto grazie e appuntamento alla settimana prossima grazie a tutti